In un periodo che non è al di sopra di ogni sospetto, perché è un periodo pre-elettorale. Ma questo va detto soltanto per scrupolo di coscienza, per il massimo riguardo che dobbiamo alle migliori coscienze che stasera sono ospiti a trovare. Ma noi parleremo questa sera di antropologia, cultura e società. Se poi l'assessore Franco D'Alfonso, autore del libro in questione che si chiama Il partito della città per l'Ornitorinco edizioni che è presente, vorrà anche dare qualche cenno personale ricavato dalla propria autobiografia culturale e quindi politica, naturalmente lo potrà fare.